42 L'hai sentito, vero? Il potere Allora, siamo a Londra, questo qui sopra di me Ah, sopra di me, vabbè C'è Charlie Annan, il nuovo protagonista di Guy Ritchie Che interpreta King Arthur in King Arthur e il potere della spada Nelle sale italiane dal 10 maggio Ma non siamo semplicemente al junket di King Arthur a Londra Siamo su un junket veramente, veramente fico Perché ci ha trasportato letteralmente nell'atmosfera del film Perché qui, dietro Charlie Annan e dietro di me C'è la spada C'è veramente la spada Ecco, corriamo Eccola qui, eccola qui Abbiamo provato anche ad estrarla Con risultati, diciamo, non proprio simili a quelli di Charlie Annan Visto che il nostro braccio è tipo un quinto del suo Però ci abbiamo provato Ci abbiamo provato E la telecamera qui è a 360 gradi Ma non è nemmeno questa la cosa più figa di questo junket È in realtà un'altra Adesso vi ci porto di corsa Ci stiamo andando Ci stiamo andando Ci stiamo andando Ci stiamo andando Spoo! Ecco qui Sempre sotto la benedizione di Charlie Annan King Arthur, grazie E Jude Law, ovviamente fantastico Jude Law La tavola rotonda Ragazzi La tavola rotonda Ci sono tutti i simboli Dei cavalieri Ci sono addirittura delle gemme Che sembrano vere Ma in realtà penso siano di plastica Ci sono le venature degli alberi Insomma una figata Pazzesca È veramente enorme Non so se si riesce a capire La grandezza Ma prende tutta una stanza gigantesca Queste sono state fatte le round table Appunto Sulla tavola rotonda Noi invece abbiamo fatto direttamente Le interviste Allora noi non abbiamo fatto Le round table Qui sulla tavola rotonda Abbiamo fatto direttamente Le interviste Con gli attori Soprattutto con quel Meraviglioso uomo Che è Charlie Annan Che magari in Italia È ancora abbastanza sconosciuto Perché ha fatto Pacific Rim Crimson Peak con Del Toro Ma soprattutto ha fatto Sounds of Anarchy Quindi Diciamo che Insomma un po' di attenzione Ce la merita Eccolo qui Charlie Charlie Che in realtà è molto riservato Molto Medita tantissimo Sulle risposte Da queste risposte lunghissime Invece Giusulo Che sembra Diciamo Così un po' Malvagio C'ha questo sguardo Un po' Luciferino Questo sorriso Un po' ambiguo In realtà Giusulo è il più simpatico Il più carino di tutti Perché Perché Ci ha risposto Sempre A tono Addirittura Ci ha fatto una specie di Quiz psicologico Chiedendoci che cosa Vedevamo nello sfondo Dietro di lui La risposta non è stata Proprio diciamo elegantissima Però adatta al film Mentre invece Gary ci ha fatto Tutta l'intervista Con una tazza di tè In mano Da perfetto Abbiamo provato Abbiamo provato appunto A estrarre la spada Ci saremo riusciti Non lo so Sicuramente ci sono tante Ci sono stati vari tentativi Soprattutto con questi tacchi enormi Qui Che vabbè Non si vedono meglio così Quindi insomma È stato un junket Molto divertente Questa cosa della tavola tonda Eccola qua Meravigliosa Divertente come il film Che è Gary Curo Perché è fantasy È storico È azione Ci sono anche tematiche importanti La famiglia Il padre La madre Il figlio Queste famiglie disastrate Che poi creano Le migliori storie Le migliori leggende Infatti l'abbiamo chiesto Agli attori e al regista Come mai A noi ci piace tanto Vedere questi personaggi Questi protagonisti Che soffrono Senza i genitori Come Batman Come Harry Potter Come gli orfanelli di Deakins È perché la sofferenza è vita È questo ci hanno detto Fondamentalmente Abbiamo chiesto anche appunto A Jude Law Che cosa preferisce Se indossare appunto L'abito talare del Papa Oppure La corona Del cattivissimo Di King Arthur Oppure Prossimamente La bacchetta del Mago di Ozzo Ci ha detto Sai che c'è Mi sa che c'è Sì del Mago di Ozzo Ciao Scusate Di animali fantastici E dove trovarli Ci ha risposto Che Mio Dio Ho avuto due anni Belli intensi Eh penso proprio di sì Caro Jude Penso proprio di sì Due anni belli intensi Che continuano appunto Al cinema Il 10 maggio Con King Arthur E il potere della spada Guy Ritchie dirige Charlie Annam E Jude Law Sono i protagonisti C'è pure Eric Bana C'è pure Dito Corto Di Game of Thrones Ci si diverte Divertente Ci sono i mostri C'è il 3D Se volete Se non volete Se potete Guardate le lingue originale Che è meglio Comunque merita Alla prossima Ecco il re C'è пере